Ciao ragazze, bentornate in questo nuovo video. Oggi voglio mostrarvi come realizzare questa piega super romantica. Sono delle onde molto morbide e molto spettinate e un mosso morbidissimo che secondo me è perfetto per queste feste natalizie ma anche per altre occasioni in cui volete un'acconciatura un pochino più sofisticata ma non troppo. Per realizzare questo effetto ho utilizzato un ferro che adesso vi mostro nel tutorial. È un ferro di questo tipo grande. Questo è il ferro della Irresistible Me intercambiabile ovvero si smonta questa parte qui e ci sono tantissimi altri pezzi da cambiare. Ve l'ho già fatto vedere in un altro video o se ancora non l'ho messo ve lo metterò. Ed è veramente semplicissimo e velocissimo perché essendo molto grosso si ottiene questo effetto mosso super morbido però allo stesso tempo è super veloce perché in 5-10 minuti siete già pronti anche se avete i capelli lunghissimi. E niente, vi lascio il video e fatemi sapere in un commento cosa ne pensate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.